Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. Andiamo a leggere la formazione di Giuseppe Orlando di Passion Football TV. Questa qua è la sua Roma con i giocatori degli anni 90 fino ad oggi. Consel, Cafu, Aldair, Samuel, Candelà, Tommasi, De Rossi, Amantino Manzini, Totti, Cassano, Battistuta. Questa è la formazione della Roma di Giuseppe Orlando di Passion Football TV. Mi raccomando andate a seguire Passion Football TV. Mandate anche voi le vostre informazioni che leggeremo con un reel. Un saluto a tutti i tifosi e gli appassionati di calcio.